ciao ragazzi e bentornati sul mio canale io sono il lanciere ritorniamo con un nuovo video dedicato alla raccolta adrenalin premier league 2023 detto questo il nostro box è qui ragazzi qui signor squad è sempre un piacere andare ad aprire questi pacchetti della raccolta premier league ne andiamo a recuperare ben otto che apriremo insieme e la qualità di questo box è sicuramente molto elevata è fatto meglio di quello italiano il costo è di una sterlina a pacchetto quindi siamo intorno all'euro e qualche centesimo lasciamo lì la nostra carta in edizione limitata di trent alexander annald magari ci porta fortuna e vediamo che cosa troviamo in questo pacchettino allora partiamo subito con una conoscenza del calcio italiano per il bologna gioca adesso nell'arsenal e tomiasu gabriel jesus ben johnson abbiamo rosler e poi le carte speciali sono due e sono la leader di guimares per il newcastle e l'electric peace e pulisic del celsi le carte speciali le mettiamo da la parte intanto vi regalo il codice e continuiamo con il secondo pacchetto allora abbiamo joe linton will hughes ryan fraser ancora per il newcastle poi abbiamo tre carte speciali e il codice che vi regalo e sono la titan di harry mcguire sempre criticatissimo tiago silva ice per il celsi e una world class la nostra prima world class è lucas digne il francese dell'aston villa pacchetto numero 3 andiamo a vedere se saremo fortunati in questo video solitamente nei box da 36 si trovano un buon numero di carte interessanti sempre al menù cristiano ronaldo cristiano ronaldo come prima carta del nostro terzo pacchetto partito bene vediamo se continua meglio con a te la line up del liverpool poi abbiamo mark cucurella ancora al brighton prima di passare al celsi e abbiamo due carte rare vediamo niente niente carta golden baller il codice che vi regalo andiamo la a girare sono la carta fire di richarlison e il top finisher ancora cristiano ronaldo ma che carte queste fantastiche alla fire e la top finisher la fai la mettiamo vicino alla ice la questa la mettiamo qui andiamo avanti abbiamo wings poi mafim per il barnemount jack grillis per il city line up del tottenham e altre due carte rare oltre al codice eccolo qui per voi andiamole a girare sono la titan di max killman e midfield master e muepu enok muepu del brighton ancora la titan la mettiamo qui mentre la master appoggiamo qui allora abbiamo gli ultimi 4 da andare alla fine insieme allora partiamo con una carta del fullam sono tutte così le carte del fullam non sono in movimento hanno il giocatore in primo piano low per il barnemount poi 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 andiamo al southampton e redmond ancora il leads con strugic e due carte rare oltre al codice eccolo qui per voi abbiamo il super stopper di dubravska del newcastle e world class e jordan enderson eccolo qui veramente fantastico world class lo mettiamo qui mentre il super stopper a fianco andiamo avanti ancora nessuna carta proprio interessante gaeta del crystal abbiamo per il newcastle burn holly watkins aston villa tre carte rare andiamo a dare un'occhiata non ci sono golden baller codice per voi e abbiamo lo stemma del nottingham forest ragazzi il ritorno nella massima serie inglese del nottingham che ha fatto un mercato veramente incredibile lo stemma quindi e poi abbiamo la defensive steel di nord guard del brentford e per il brighton il leader nil muay pai penultimo pacchetto per questo video allora andiamo a vedere chi troviamo abbiamo dominic calver lewin poi abbiamo boli per il volvere empton per il celsi abbiamo mateo kovacic dank per il brighton due carte rare e il codice eccolo qui abbiamo di preciso phil foden il diamante del city e ancora city con electric pace e kyle walker doppio manchester city guardate qui siamo arrivati all'ultimo pacchettino per questo video andiamo ad aprirlo insieme e vediamo che cosa troviamo abbiamo diego jorente per il leeds thomas sucek matthias jensen per il brentford poi abbiamo tre carte rare e non mi sembra di vedere nessuna carta importante codice per voi il numero 8 lo stemma dell'everton la midfield master di den tonker per il volves e un altro world class world class per il manchester united e david de gea ragazzi termina qui questo nostro primo spacchettamento del box la carta più interessante è sicuramente questa la top finisher di cristiano ronaldo in attesa di definire il suo futuro con questa carta vi vado a salutare ma come sempre non prima di avervi ricordato di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i video le novità che andrò a pubblicare sul canale e soprattutto schiacciare un bel like al video detto questo vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao